Per la cattolica posse, accompagnato da maestro Marco Umpinati, Filippo Gavarini. Per la cattolica posse, accompagnato da maestro Marco Umpinati, Filippo Gavarini. Per la cattolica posse, accompagnato da maestro Marco Umpinati, Filippo Gavarini. Per la cattolica posse, accompagnato da maestro Marco Umpinati, Filippo Gavarini. Per la cattolica posse, accompagnato da maestro Marco Umpinati, Filippo Gavarini. Per la cattolica posse, accompagnato da maestro Marco Umpinati, Filippo Gavarini. Per la cattolica posse, accompagnato da maestro Marco Umpinati, Filippo Gavarini. Su le mani! Via quel cancio sinistro! E sotto, e sotto! sotto, e sotto, e sotto, e sotto! Inizio sinistro! Inizio sinistro! Pazzesco! Non ho visto! Questa guarda che è la mia casa non è male dopo che ha avuto stato! Inizio! Dai, fai il ritmo! Fai il ritmo! Due mani! Torra! VOLTino! E adesso la guarda sole! Vieni bien! Vieni bien! Vieni bien! Aivenuti! Dentro la mano! Dentro la mano! dentro la mano! Gen now andiamo! 呀! ancora! ancora! Wantriamo! Eccomi, sulle mani, sulle mani, sinistra e ganso destro, sinistra e ganso destro, bravo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!